alla vecchiaia e dove un bacio, seppur immaginario, ha qualcosa a che fare con la felicità. Dopo una sorta di urlo ispiratorio, il capitano cade esanime sul pavimento, trascinando con sé la scatola che, battendo violentemente sul pavimento, produce un rumore di vetri infranti e dal suo interno cominciano a fuoriuscire tutte le bugie raccontate nell'arco della sua esistenza. L'ultima immagine che gli occhi del capitano memorizzano prima di spegnersi definitivamente è quella della neve che cade senza rumore in una camera sempre più buia.